Con la calura estiva che finalmente dà un po' di tregua e l'arrivo di settembre, anche la politica andriese sta man mano rientrando dalle ferie. Va detto che per buona parte dei suoi protagonisti la differenza tra ferie e lavoro non è apprezzabile. Comunque, in qualche modo, anche essi fanno finta di riprendere un'intensa attività. Dovrebbe rientrare anche il sindaco Giovanna Bruno, ferie brevi le sue, pochi giorni, per sopperire alla sede vacante, ha adottato un provvedimento degno del sessantottino la fantasia al potere. Si tratta della nomina di un vicesindaco senza nominare il vicesindaco. In pratica ha stabilito che da ora in poi in sua assenza a rappresentare l'amministrazione sarà l'assessore Cesareo Troia, che di fatto svolgerà le mansioni di vicesindaco, senza però la delega di vicesindaco. Insomma, così come la ragazza che disse alla madre mamma sono un po' incinta, il buon Cesareo, si presenterà con un cordiale salve, sono Cesareo Troia, un po' vicesindaco. Un atto comunque coerente con gli equilibri precari che regono l'amministrazione e la costringono a camminare sulle uova. Certo, il sindaco può contare su opposizioni di tutto riposo, impegnate più a farsi autogol che a contrastare la maggioranza, ma la vicenda, su cui abbiamo facilmente ironizzato, indica come anche la semplice attribuzione di una delega rischi di trasformare le suddette uova in una frittata. Le polemiche non mancano, anche se l'homo cacchiellus, involuzione del sapiens, molto diffuso nella maggioranza, preferisce farle al bar o nei gruppi dei social network, lanciando sassi con la speranza che qualcuno non nasconda la mano togliendogli le castagne dal fuoco. Una pratica che vede in prima linea consiglieri del PD che chiedono al loro partito di pretendere maggiori lumi sulla transazione di Oguardi. Si tratta in estrema sintesi di una determina dirigenziale con cui si chiude una vicenda che inizia nella notte dei tempi, addirittura la consigliatura guidata da Giannicola Sinisi quando fu affidata al noto architetto la progettazione del piano regolatore. Il Comune di Andria ha accettato di pagare in due rate la somma residua di 320.000 euro oltre cassa e IVA, risparmiando il 25% rispetto a quella richiesta da Dioguardi. Non contestiamo la legittimità, ne entriamo nel merito tecnico dell'accordo su una vicenda complessa su cui avremo modo di tornare con maggiori dettagli. Crediamo che per un Comune con la situazione economica di Andria l'esborso di una somma così rilevante decisa con una determina del 10 agosto la cui prima rata è stata pagata dopo pochi giorni a tempo di record meriti approfondimenti di natura tecnica e politica. Auspichiamo pertanto che invece di nascondersi con il dico e non dico chi ancora non è regredito nell'uomo cacchiellus si dia una mossa.